Restiamo ai posti meravigliosi perché domenica si celebra la giornata del Panorama 2024, è la festa del FAI dedicata ai paesaggi italiani, ospite in studio Francesco Carignani, capo di delegazione Napoli per il FAI, che ci invita in un posto fantastico. Un posto direi magico, questa è l'undicesima edizione di queste giornate del Panorama organizzate appunto dal Fondo per l'Ambiente Italiano e dalla Fondazione Zegna e noi in Campania, in tutta Italia ci saranno 14 beni aperti, ma in Campania abbiamo la Baia di Eranto che è un luogo magico, è proprio l'esempio dell'incontro tra cultura e natura, per cui questo desiderio è anche di ritrovare degli equilibri nostri con la natura. Quale luogo più adatto se non la Baia di Eranto? Ci saranno i classici percorsi da visitare, ma ci saranno anche delle cose molto particolari, c'è la possibilità di disegnare per esempio sul posto con una professoressa, fare delle gite in caiacche ed esplorare il fondale marino. Quindi emozioni su emozioni, Carignani? Assolutamente, perché tra l'altro ricordiamo Baia di Eranto fa parte del parco marino di Punta Campanella, per cui qualcosa veramente di unico in Italia, vissuto in un modo veramente particolare, ci dà la possibilità di staccare, di passare del tempo con la natura e di riscoprirci in questo rapporto. Chi può aderire a questa iniziativa sulle soci del FAI oppure anche gli altri? No, l'iniziativa è aperta a tutti, ci sono, come dicevo, vari percorsi sulla Baia di Eranto, c'è per esempio il percorso delle Sirenuse che parte da Sant'Agata e vede veramente un panorama eccezionale sui Galli, per cui qualcosa veramente bellissimo. Tutte le informazioni e le modalità sono sul sito www.giornatadelpanorama.it Tutto domenica. Domenica 8, vi aspettiamo. Grazie, grazie Carignani, speriamo di avere un ottimo riscontro per le bellezze del nostro territorio.